Per noi è un appuntamento storico in quanto la città di Pompei unitamente alla città di Napoli sono stati capaci per ben 22 anni di organizzare senza avere mai avuto problemi questa grande storia che rappresenta la storia della pace perché Pompei è città della pace. Domenica prossima 29 novembre con partenza alle 8 e 30 da Piazza Plebiscito la 22esima edizione della Corsa per la Pace Napoli-Pompei di 28 chilometri. Insieme con i due comuni la gara è patrocinata dal Santuario di Pompei e dai comuni di Portici, Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata con la collaborazione tecnica del Comitato Regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. La competizione è riservata ad atleti delle categorie assolute ed amatori, senior master. Un'altra bella giornata di sport per due città che sono accumulati da tanta storia e poi insomma una maratona che parte da una città come Napoli che attraversa tutta la provincia passando per Ercolano, per i siti Unisco. Arrivando a Pompei insomma credo che diamo un bello spettacolo per la intera provincia di Napoli.